E' avuta una notizia shock perché stavo a Milano e ho scoperto che c'è Elisa Maino a fare la prima copia Allora mi sono comprata il libro e alle tre e mezza incontro Elisa Maino E' avuta una notizia shock perché stavo a Milano e ho scoperto E' avuta una notizia shock perché stavo a Milano e ho scoperto